Giornata che si preannuncia molto interessante Abbiamo diverse sfide in corso, alcune personali Alcune invece a due La mosca è la che userò oggi, almeno una delle due Spero che sia quella giusta Ottimo Ce l'ha anche il mio versabile, lo ho costruite io Qui ragazzi c'è un misto di agonismo e di fair play So che stanotte hanno tentato di sabotarsi i waters a vicenda Non mi stupirei che qualche canna possa esplodere nell'arco della giornata Effettivamente è un versabile o due da battere È sempre stato È cazzuto Allora secondo lei esisteremo una bella sfida? Sicuramente, sicuramente Spero con pesci Benissimo, per chi? Ma tutti e due Tutti e due? Se ne prendo uno in più mi fa piacere Ecco, perfetto I due giudici di gara Le acque del Varzuga stanno veramente per assistere a un momento epico Mai nella storia della penisola di Kola Si era assistito a una sfida di tale valore tecnico e culturale I giudici controllino le mosche Ok, perfetta Controlliamo i finali, lunghezze standard Siamo su due metri e un dieci Perfetto, perfetto Allora, che contendenti incroccino le canne? Contendente, lei deve incrociare le canne Contendente, lasci stare quello zainetto Su Forza, incrociamo le canne Benissimo Allora, chi vince? Sì, ma guarda che ti è venuto il naso di Pinocchio Dai Benissimo, stringetevi la mano E all'assalto Stretta di mano Allora, siamo pronti Ottimo, benissimo Ok, via Scatenate l'inferno Bocca al lupo I nostri due eroi sono già in acqua Ormai La concentrazione è altissima La risalita è scarsa Per cui Al minimo segnale di abboccata Dovranno scattare Come aquile Renato esplora Una piccola buca In cui ieri ha catturato due salmoni Il dottore si esibisce In un doppio spei Da dimenticare Una passata perfetta Per la check nymph Con pochissimo controllo Della coda Beh, si abbocca un pesce adesso ragazzi Qua Vuol dire che c'ha qualche santo in paradiso Ecco il dottor Faustini Che sembra aver catturato Stiamo correndo sotto la pioggia E qui E qui il dottore Sta acquisendo un vantaggio importante Questo potrebbe essere il pesce Potrebbe consacrare la vittoria Nel challenge Attimi di tensione I momenti che precedono Il gusto della vittoria Eini E qui I momenti che Vigia Ok Dottore Fraira Vai Contrligire La Questa La Questa 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 c'è c'è dottore c'è dottore bel pesce complimenti complimenti gran pesce grande e qui e qui e qui e qui mi sa che la sfida e qui la sfida mi sa che si conclude i due avversari sportivamente si stringono la mano ma qua caro Renato il dottore mi sa che ha fatto bingo no se c'è l'ardiglione c'è la squalifica controllare gli ardiglioni scusate controllare l'ardiglione perché scatta la squalifica grande doc via di dietro così girati girati verso di noi bravo così un po così così perfetto ok gira il muso verso di noi vai 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 libera libera colpo di scena colpo di scena colpo di scena ardiglioni sugli ami squalifica l'ardiglione c'è mi dispiace mi dispiace mi dispiace mi dispiace Renato ti comunico che è stato squalificato perché c'erano gli ardiglioni sugli ami e quindi e quindi adesso tocca a te Marco e quindi almeno uno devi prenderlo però è squalificato parvo eh Grazie! Grande! Grande! Ho aggiunto quanto! Vai giù, vai giù! Rimonta di Renato! Barco inviperito! The winner is... Renato Perché è stato squalificato? Perché è stato squalificato il dottore? Perché ha pescato praticamente... Ha preso due pesci pescando con la pignone nel regolamento con la pignone Quindi mi sembra giusta la decisione della giuria? Mi stupisce che un agonista di fama internazionale di... Caschi, caschi in questo tipo di errori Oltretutto Cioè al limite della truffa addirittura Esatto! Perché oltretutto ha fatto assolutamente finta di niente essendo consapevole del fatto di avere gli ardiglioni E anche davanti all'evidenza Ha cercato di negare l'aumento della salmatura del PEC Quindi direi che non ha nessun tipo di scusante Ho ristratto le prove Eccolo qua Vedete? Guardate qua Non c'è proprio... Ed ecco che arriva il vincitore Ed ecco che arriva il vincitore Vene festeggiato dagli ultra Olè! Olè! Il vincitore... Grande! Grande! Una dichiarazione a caldo Renato Poteva andare meglio Hai vinto! Dove andare meglio Grazie per aver male Perché chiaramente il dottor Faustini è stato sleale Era in gara come avete visto nel filmato con Renato Ma purtroppo si è comparato in maniera assolutamente sleale Pescando quell'ardiglione dove non è permesso E' stato squalificato a vita Probabilmente non potrà più mettere mosche in acqua in fiumi da salmone Adesso... Ma pensi che a cola potrà pescare? Penso di no Adesso starà a vedere Probabilmente non gli daranno neanche più il visto Staremo a vedere cosa può succedere Sarà veramente dura comunque Ma vogliamo vedere il viso di questa persona Che si è comportata in maniera scorretta Anche perché se ormai è conciato veramente... E' affranto Io lo capisco da una parte Però... Poi ovviamente l'aggravante Il fatto che... Ecco adesso lo vedete Sono affranto Ovviamente tiene anche l'Inter Anche perché ancora non ha fatto Certo Con l'ardiglione Dispiace Dispiace Come vedete... Non è vero Sono contentissimi Come vedete... Non c'è davvero alcun dubbio Vedete... Questo è il nome dell'incriminato DNS Chiaramente squalificato E come vedete Cascade Micro Con... Ardiglione With Barbz Con due o tre punti esclamativi In modo che questa classifica E questo foglio rimarrà Negli annali della barduga Per fare la parte Mi piace Si... Ma... i... Si... Con due o tre punti... No... Si... Si...